Ciao a tutti, oggi ho fatto questo trucco, è un trucco sui toni del giallo, visto che il 19 di novembre è la giornata mondiale per la prevenzione della violenza sui bambini. È un'iniziativa che è stata voluta da Terre de Homme e c'è un numero per mandare gli sms, che è questo qui, e niente, siccome già comunque alcune ragazze e il mio ragazzo mi hanno detto, ma perché non fai un trucco sul colore del giallo? Io sinceramente il giallo è un colore che non sempre con il chatting prendo in considerazione, perché comunque essendo bionda, non lo so, ho sempre pensato che magari fosse un colore che mi potesse stare male. E niente, ho guardato la mia palette e ho provato a vedere i colori che più magari utilizzo e quelli che utilizzo di meno, il giallo è proprio uno dei colori della palette che non avevo praticamente mai usato, a parte quello shimmer che è un po' doratino. E quindi niente, ho colto la palla al balzo e ho pensato che comunque, visto che l'iniziativa mi sembra un'iniziativa abbastanza bella, ho pensato di fare un trucco giallo, visto che comunque il colore del fiocchettino di questa iniziativa è giallo, e quindi niente, ho pensato di unire le due cose. Non avevo vestiti gialli e ho messo gli unici, ho messo gli occhi orecchini, e basta. Vi ho spiegato tutti i prodotti che ho utilizzato, forse il giallo è un ombretto un po' difficile da trovare in giro, però ho visto che alcune palette, oltre alla palette di Zoeva, hanno inserito il giallo come colore, anche addirittura mi sembra delle palette della Essence. Quindi comunque insomma, magari guardate in giro, da MAC c'è sicuramente, comunque anche da Kiko mi sembra che ci sia il giallo come colore. Vabbè, comunque insomma poi è abbinato all'oro, quindi è abbastanza semplice. E niente, andiamo a vedere come ho fatto fare il trucco. Ok, applichiamo la base, nel mio caso la base per ombretto di Sephora. Prenderò un oro illuminante, quasi bianco. steso l'illuminante nella prima parte sull'arcata, andrò a prendere un pennello come questo, e andrò a prendere il colore giallo, più giallo, che ho della mia palette, che è questo colore qui. È un giallo canarino tendente al senape. Lo applicherò nella parte centrale, fino all'esterno. Per intensificare il giallo, che comunque è un colore abbastanza chiaro. Spruzzerò un po' il mio Fix Plus, qualsiasi abbiate, sul pennello. Andrò a prendere un altro po' di colore. spruzzerò la sfumatura e sfumiamo un po'. Ora, prendiamo un pennello come questo, abbastanza piccolino, e andrò a prendere l'oro. Io utilizzerò questo, però qualsiasi oro abbiate, a me questo co piace molto perché è un oro un po' scuro rispetto agli altri oro. e andiamo a tracciare la linea della nostra piega, quindi delimitando praticamente la fine del giallo più scuro rispetto all'illuminante che abbiamo usato prima. e poi scendiamo qua e congiungiamo le due linee, arrivate più o meno fino a qui. Prendiamo il nostro blano da sfumatura e tiriamo un po' il colore. Non ho voluto unirli completamente per fare un po' uno stacco tra i tre colori. Mi piaceva in questo caso, alcune volte con alcuni colori non mi piace. Invece in questo caso mi piace molto che comunque si veda la lineettina che è diversa rispetto ai due gialli. Ok, così. Non so se riuscite a vederlo. Ora, ho pensato che comunque un trucco così giallo non mi piaceva. Ho pensato di aggiungerci alcuni glitter, in questo caso questi qui oro. Però inizialmente avevo messo solo il glitter e non si vedeva assolutamente. Quindi ho pensato di mettere una base scura nella linea dove puoi mettere il glitter. E nera mi sembrava un po' troppo scura, quindi ho pensato di farla marrone. Quindi andrò a bagnare il mio pennello e andrò a prendere un po' di marrone, del marrone più scuro della palette. Andrò a tracciare la mia linea. Grazie. 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 e lo darò nella parte sotto esternamente o comunque se il vostro matitone è abbastanza morbido potrete darlo anche internamente andrò fino a qui e qua su, qua nell'angolo prenderò questo colore della palette che è sempre un giallo però è un giallo shimmer questo qui e passerò il pennello sopra il bianco in modo che si fissi un po' di giallo prenderò il mio pennello da sfumatura e tirerò via gli eccessi con il mio pennello a ventaglio andrò a tirare via la parte che si è depositata qua andrò a dare il mio mascara andrò a tendere ancora i miei glitter li metterò sulla mano andrò a prendere questa spazzolina prenderò su un po' di glitter e passerò sulle ciglia in modo che un po' di glitter si depositino il mio mascara nero quanto riguarda il blush andrò a prendere un po' del mio blush di Essence sulle labbra metterò questo colore che è il 15 sparkling delight di Essence che è un marrone che ha al suo interno dei brillantini oro ok il mio trucco è finito vi ricordo che è il trucco per la giornata mondiale per la prevenzione della violenza sui bambini c'è anche un numero sul quale mandare gli sms che vi scriverò qua e niente spero che vi sia piaciuto e a me piace non credevo che mi potesse piacere un trucco con i colori del giallo anche perché penso di non essere mai truccata di giallo visto che comunque sono bionda e non pensavo che potesse essere un trucco adatto invece mi piace ciao un bacio grazie